Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Io sono Apple Matte e sono in compagnia di DarkSchool369 e di AngelOfWar97 che è un nostro amico Oggi faremo il gameplay di S.A.N.T.E.R.O. del terzo capitolo Questa intanto è la mappa molto ampia E questo è il palmare dove ci sono tutte le opzioni di gioco tipo il denaro, gli extra eccetera Negli extra ci sono i trucchi, possiamo andare a vedere Ci sono pochi Trucchi, gioco, tipo immortalità, rispetto immediato, munizioni infinite Due volte munizioni infinite, eccetera Qua è piattaforma PC di DarkSchool Che giocherà col controller della Playstation 3 Intanto sta picchiando un ninja passante Questo gioco è un gioco molto strano È realistico Praticamente è realistico molto No, per niente E possiamo vedere che c'è il nostro, il camion e anche la bettoniera Tutte le macchine, moto hanno il nostro All'inizio, cioè, tu, il personaggio che hai appartiene a una gang Di colore viola E devi praticamente Devevi praticamente combattere contro le altre gang Di tutti i colori immaginabili Qua c'abbiamo una gang di coloro azzurra Lo si E i gatti invece sono power di questo gioco Perché sono immortali Il personaggio più strano e più difficile da ammazzare è il gatto Che abbiamo visto lì col testone Un pupazzo, un pupazzo gatto Tanto questa qua vola Ci sono molte auto e moto Tutte modificabili Tutte modificabili Tranne quelle della polizia Prima abbiamo modificato un'auto Però l'abbiamo persa Eh, si è sfaccia all'altro Succede di tanto Possiamo vedere che abbiamo tantissime armi Tra cui il manganello a forma di pene Andiamo a usare E' fortissimo Però non c'è nessuno E' l'arma più bella Che abbia mai visto e usato E' molto forte L'ammazzo A colpi di pisellate Molto forte contro qualsiasi cosa Contro una macchina la distruggerà Cosa? In questo gioco ci sono molti trucchi già Cioè, certi trucchi sono già preinstallati E altri si possono trovare sui siti su internet C'è la modalità zombie Cioè, praticamente Puoi chiamare ad aiutarti le truppe zombie Gli zombie Gli zombie Proveremo uccidere un polizio Ecco la macchina della polizia Che già mi seguo perché è molto bella È già morto Ecco la macchina della polizia Che picchia la gente I civili Ah, ci vedremo Adesso inferieremo su di lui E vedremo che non morirà Che tanto non muore Cercherà di uccidermi e mi prenderà E non muore È arrivata anche una banda nemica È una banda? Di che colore? Blu Eh sì Sì, è da con No, vabbè, nera e blu Potremmo essere nera Ebbè No, è banda blu perché è il colore più Ma è ninja Di ninja Di ninja, ecco O i dark, non so Molto bello Il gatto di merda non muore Oh Ma si alzerà sicuramente Poi il personaggio L'avatar è completamente modificabile Con tatuaggi Puoi anche spogliarla tutta nuda E farla girare E appunto Fari dei tatuaggi Cambiare vestiti E mettere catenine Ora chiameremo le truppe Zombie Andiamo a vedere Dal telefono Dal palmare Chiamalo Squad As Watch Perché è già prima Gizzo la squadra Sarà viola Anche dai No, da pochiamo L'altro fa Zombie Eh, perché L'ho finito Eccola Swot Color viola Attenzione Perché se no Stonavano Il nero Tra i nemici Sono tutti morti Bellissimi Nessuno Morti tutti Vi atto Lì che riposo In che silenzio Mai successo È uno dei giochi più strani Che avrei mai visto Oh, ora arrivava la polizia È copiato Probabilmente da Da altri giochi Come GTA Sicuramente Che è praticamente uguale Solo che Questo è stranissimo È molto più strano Surreale Sì, ora vediamo Lo suolo che spara Ma niente Sì, c'è Una sudata in faccia Poi Cosa dire Ci facciamo un volo Ah, è disponibile per Piattaforma XBOX 360 Play 3 E E PlayStation 3 Come scaricarlo E installarlo C'è un altro video Sul nostro canale Fatto da me Fatto da DarkSchool369 Basta anche andare A visitare il nostro forum Lo troverete Sì Vediamo una moto da cross Mi veste Io sono immortale Qui Sono me Sono me Don't last Facciamo Bagliamo Questi cosi Sono qua Oh, no Sono una vecchia cicciona Una vergogna Ricominciamo No, non me ne ho Ok Ok Sezionare un razzo Cazzone il gatto Eccolo Eccolo Col bazooka Cazzone Cazzone Dai, chiamagli zombie Dark 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 Eh, ma mi sa che non sono gradi sconti Posso chiamare un alieno gigante Dai, space bruttina Un helicottero, un helicottero, un helicottero, un helicottero Cazzone Cazzone La Bentley Diverto Mi vede Attenzione Vede qualcuno E' finita Attenzione Il ciccione Arriva Lomone Eccolo Eccolo Veramente un gioco Eccolo Eccolo Cazzone Cazzone Eccolo Cazzone 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 Nel Cazzone Cazzone Fazzone Cazzone E' molto forte De общere Pazzone Cazzone 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 che ben gioco ragazzi sicuramente da scaricare dal nostro forum bellissimo la maglia firmata dai l'arrivo la mettoniera con turbo lasciando distruzione passare al turbo attenzione scappiamo noi attenzione a vetta niera turbo di fianco io non ho visto l'arrivo potremmo colore e dappertutto una palla assurda standato qua se noi sparati non vi ucciderò però ma ci sono anche ieri jet eccetera milano e anche elicoteri potete comprare tanti quei negozi ecco già comprato uno tanto ne si arricchi 20 milioni di dollari ma se inizia Marissa e poi li sfonda come ci ha fatto raggiungere non si sa attenzione snowboard subito alla sola c'è il volo vabbè venga scassato direi che la possiamo anche finire qua perché dopo aver fatto vedere quasi tutto allora il gioco è molto bello mi raccomando scaricatelo per la guida c'è il nostro video come ho detto prima iscrivetevi e mettete mi piace a questo video e anche agli altri iscrivetevi al canale e al forum mettete mi piace alla nostra pagina di facebook stiamo rompendo la mito commentate eccetera qui un saluto da 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 Apple Matt da Skool e anche for e detto questo ciao a tutti ragazzi alla prossima ciao a tutti